Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà la risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, sì o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Oggi la Chiesa fa memoria di tre santi fratelli, Marta, Maria e Lazzaro. Un tempo era la memoria solamente di Marta e poi recentemente il Papa Francesco ha voluto aggiungere anche gli altri due fratelli nello stesso giorno. Una famiglia di fratelli che hanno a che fare con Gesù. Era una casa molto importante per Gesù, la casa di Betania, era la casa dell'amicizia dove lui come vero uomo ha vissuto questa dimensione tanto importante e tanto fondamentale anche per noi. E in modo particolare Marta, che la ricordiamo sempre come colei che è affaccendata e che si riprende il rimprovero del Maestro, Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti agiti per tante cose, Maria ha scelto la parte migliore. In realtà nel momento della prova della morte del fratello Lazzaro, Marta fa una delle professioni di fede più grandi che ci sono nel Nuovo Testamento. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E questo lo fa nel momento in cui sperimenta tutto lo smarrimento, non solo per la perdita del fratello, Lazzaro era morto, ma anche per la delusione di quell'amico, la delusione di Gesù che non era lì con loro nel momento della prova, una delusione perché se il Maestro fosse stato lì il fratello non sarebbe morto. Glielo dice Marta, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E questo ci dice una grande consapevolezza per la nostra vita. Se c'è presente Gesù noi non sperimentiamo la morte. Se noi lo rendiamo presente, lo rendiamo vivo, ci rendiamo conto che lui è lì, è qui con noi, non sperimentiamo la morte anche se vediamo i segni della morte, perché lui è la risurrezione e la vita. Marta è grande perché professa la fede nella risurrezione prima di vedere il proprio fratello risorgere dai morti, o meglio ritornare in vita perché poi Lazzaro sarà nuovamente morto, ok? Quindi è bello vedere la fede di questa donna. Che cos'è la fede? La fede è credere la verità prima ancora che questa accada. La fede è sorridere quando ancora non ce ne sono le motivazioni. La fede è vedere la vita quando ci sono i segni della morte. La fede è vedere la misericordia nonostante sperimenti la mia miseria. Marta, questa donna così concreta, compagna di viaggio nostra nel cammino della vita, ci aiuta nel cammino di fede a fare come lei, con la presenza di Gesù, la fede diventa vera, qualcosa di vivibile. Ecco che questa sorella maggiore ci possa aiutare nel nostro cammino a credere proprio così, come lei, non una fede perfetta ma una fede concreta, incarnata nel concreto della vita.